La zona bianca che in Abruzzo scatterà da domani e a Pescara il sindaco Carlo Masci firmerà un'ordinanza che prevede dal 7 giugno al 7 luglio la chiusura delle attività a mezzanotte e mezza dalla domenica al giovedì e all'1.30 il venerdì e il sabato in tutta la città dal centro a lungomare. Il primo cittadino parla di equilibrio e sintesi di buonsenso ma con fartigianato lo attacca dicendo che si tratta di un nuovo e assurdo coprifuoco cittadino ed annuncia una mobilitazione. All'Aquila il sindaco Pierluigi Biondi in vista della riunione di domani del comitato per l'ordine della sicurezza pubblica che si terrà in prefettura annuncia che chiederà di intensificare i controlli nei luoghi e nelle giornate di maggiore concentrazione di ragazze e ragazzi per garantire il rispetto di tutte le norme di ordine pubblico di prevenzione del covid e quelle sul divieto di consumare bevande in luoghi non consentiti. Chiederà sanzioni esemplari per chi vende o somministra alcolici ai minori e le decisioni che saranno assunte dal comitato saranno portate in consiglio comunale.